Presidente Di Fabio, dopo l'amarezza del derby con Chieti si torna subito sul parquet, c'è Sansevero, è un vero e proprio big match? Forse meglio così, in settimana abbiamo avuto un po' poco tempo per riflettere, ma molto più tempo per recuperare, aspettiamo questa partita come l'apice di questo mese di partite impegnative, siamo pronti. Che partita si aspetta con Sansevero? Sicuramente una partita combattuta, una partita con l'ennesima bella cornice di pubblico, una partita forse meno fisica rispetto a Chieti, però sicuramente una partita importante. Tornerà Salvemini qui, dopo quello che è successo all'andata, è tutto a posto, sarà un bel sabato di sport? Ormai è uno dei tanti avversari che arrivano al paleletra, nessun particolare pensiero, niente. Penso che quello che c'era di me è stato detto, non ci sono stati chiaramente dovuti, domani lo applaudiremo come avversario, ma nulla di più. Tornando a Sansevero, un giocatore che teme particolarmente, che porterebbe via volentieri al roster di Giorgio? Chiaramente di Donato, che è il giocatore di Pescara, un giocatore dell'amatori, un giocatore eccezionale in campo e anche fuori dal campo. Pescara farà mercato? Pescara farà mercato, vediamo domani il risultato, qualcosa bolle in pentola, come avevo già detto, faremo qualcosa solo se ci sarà un miglioramento davvero importante, davvero sostanziale. Il roster è già competitivo, i giocatori fino adesso hanno dato il massimo, abbiamo una classifica invidiabile, quindi vedremo.